Andiamo al primo classificato che è Deborah Galanti con Io Vagabondo Deborah Galanti, primo classificato con segna Nando Liella che arriva da Bulgaria e il sindaco di Castagnole che arriva da Castagnole Il quadro che ha vinto il primo premio ha totalizzato come vendita oltre 700 euro Ringraziamo tutti Spero di non aver dimenticato nulla Allora, questa sera noi dobbiamo anche dire che con noi il presidente della Proloco di Castagnole di San Bartolomeo che interpreta Rino Salietti che interpreta anche la nostra maschera locale noi quest'anno abbiamo fatto una Marchesa nuova quest'anno la Marchesa nuova per il Carnevale che vi invitiamo tutti che poi l'ultima domenica di Carnevale è interpretata e che gli consegna il suo mazzo a Grazie a tutti Grazie a tutti